Il successo della bocciofila Merano, 61esimo trofeo Fiera, prestigiosa gara provinciale a coppia e promossa dalla bocciofila Cassa Rurale Bolzano, a trionfare sui campi del bocciodromo cittadino Angelo Raffa e Giuseppe Ricci, i quali si sono imposti in finale sui bronzorotti Guerrino Maggioli e Robert Ruele. La competizione ha coinvolto 70 formazioni per un totale di 140 atleti. Dopo le eliminatorie che si sono disputate a Bolzano, Lives, Bronzolo e Sinigo, il trofeo è entrato nel vivo nel pomeriggio quando hanno avuto luogo le fasi finali. Non sono mancate le sorprese, la coppia di categoria A, composta da Marcon Sicignano, è stata eliminata senza troppi complimenti dal duo Sacket-Boscolo, ma impressionale sono stati i meranese e i bronzolotti che si sono incrociati nella finalissima. E' stata partita vera, il parziale di 4-0 del bronzolo non ha impensierito i meranesi. La rimonta si è concretizzata negli scarti successivi. A dirigere la gara il signor Antonio Rindone, così il presidente della bocciofila, Silas Canavacca. Sì, è un riguardo molto importante perché, come dicevi tu, è il 61esimo che facciamo. Noi saremo ben felici il prossimo anno di poter ripeterlo col 62esimo.